Ciao, benvenuta! Con questo video ti voglio mostrare esattamente quello che troverai all'interno del mio programma completo, quindi tutti i contenuti che avrai a tua disposizione una volta iscritta al mio programma. Questa è la tua dashboard, ovvero il tuo punto di riferimento per accedere a tutte le aree del mio programma. Come puoi vedere ci sono tantissime aree ed ora ti mostro quelle che sono le principali, quelle più importanti. Abbiamo l'area allenamenti, l'area allenamenti è studiata per darti tutto quello di cui hai bisogno per allenarti in modo completo e corretto. Hai una sezione postura in cui verrai guidata sia con dei video che con dei pdf all'esecuzione corretta, precisa e ineccepibile di ogni esercizio. Hai anche delle lezioni di fitness in modo tale da avere delle competenze in più da poter utilizzare per raggiungere il livello successivo nei tuoi risultati e progressi. Hai poi a disposizione diversi programmi di allenamento che puoi adattare sulla base delle tue specifiche necessità. Quindi hai bisogno di risvegliare il tuo metabolismo? C'è il programma Restart. Vuoi prepararti per la prova bikini? C'è la bikini challenge. Hai continuamente a disposizione programmi sempre nuovi, sempre diversi, adattabili sulla base delle tue necessità. E poi naturalmente il mio programma completo che è il punto di riferimento principale. C'è poi l'area nutrizione. Anche quest'area è suddivisa in tante micro aree in modo tale da darti un servizio a 360 gradi a supporto di una nutrizione completa, corretta e sana. In ogni sezione hai dei video tutorial in modo tale da essere sempre guidata all'interno delle sezioni e non poter mai sbagliare. Hai il tuo calendario nutrizionale? Il calendario nutrizionale ti permette di avere consigli nutrizionali personalizzati sulla base del tuo fabbisogno calorico, quindi tarati sulla base delle tue specifiche necessità. Hai anche una lista di sostituzioni alimentari, quindi sono dei piani estremamente flessibili e sono anche personalizzabili. Hai a tua disposizione tre diversi menu. Hai il menu standard, quello vegetariano e vegano. All'interno sempre dell'area nutrizione hai i calcolatori. Hai dei calcolatori che ti permettono di determinare in modo esatto e corretto quello che è il tuo metabolismo. Sulla base di un attento calcolo, dopo aver inserito i tuoi dati, avrai a tua disposizione l'apporto di calorie di cui tu hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. Hai anche a disposizione una sezione diario alimentare che ti permetterà di tenere traccia di tutti gli alimenti che tu hai ingerito, che hai introdotto durante i tuoi pasti e sapere esattamente quante calorie ti rimangono. Il diario alimentare ti permette di avere un approccio flessibile a quella che è la tua nutrizione, quindi potrai anche non seguire i miei consigli nutrizionali, ma semplicemente seguendo l'apporto di calorie consigliato potrai raggiungere i tuoi obiettivi con estrema facilità. C'è la sezione ricette per non annoiarti mai, 100 più ricette incluse all'interno del mio programma. C'è ancora la sezione cucina con me, ci sono dei video di tutte le ricette più importanti, più divertenti e gustose rivisitate in versione healthy, fit, salutare, quindi con poche calorie potrai gustare insieme a me dei piatti buonissimi. Torniamo indietro, hai anche la sezione spesa. La sezione spesa è studiata appositamente per darti tutte le informazioni di cui tu hai bisogno per destreggiarti in mezzo agli scaffali, quindi potrai fare la spesa in modo molto più consapevole. C'è poi la sezione detox, questa è una vera e propria bomba, quante volte ti è capitato di sgarrare, cercare un qualcosa per depurarti in modo definitivo. Ecco, hai a tua disposizione due possibilità detox. Hai una giornata detox 24 ore con le migliori combinazioni alimentari approvate da professionisti per depurarti in sole 24 ore con dei succhi. Oppure hai dei consigli nutrizionali detox soft, ovvero un approccio nutrizionale ipocalorico con le corrette combinazioni alimentari per sgonfiarti fin da subito. Ed infine, ultima ma non ultima, le lezioni di nutrizione. All'interno di questa sezione hai dei video contenuti in modo tale da avere tutte le informazioni che ti servono per sapere esattamente quali alimenti assumere, quali combinazioni alimentari scegliere, in modo tale che tu abbia delle competenze tue per sempre, anche una volta in cui non farai più parte del mio programma. Torniamo alla dashboard. C'è la sezione i tuoi progressi, in modo tale da poter tracciare sempre i tuoi progressi. All'interno del mio programma c'è anche una sezione molto divertente, ovvero quella della gamification. Ci sono nove step nascosti all'interno del mio programma, nove step che ti permettono di raggiungere il successo, il corpo dei tuoi sogni. Sono inclusi all'interno del programma, trovi poi all'interno un video che li illustra e avrai modo di ricevere dei certificati ogni qualvolta tu andrai a raggiungere questi micro step. Quindi è una gara, è una competizione contro te stessa per raggiungere il successo. Hai poi una sezione mindset, quindi non potrai più avere scuse. Hai tutti i video che ti servono per rimanere sempre motivata, andare a costruire una mentalità vincente per non mollare mai oppure per recuperare dopo gli sgarri. Ed infine una sezione alla quale tengo tantissimo, Cosmesi e bellezza. All'interno di questa sezione hai quello che ti serve per poter avere un supporto a 360 gradi della cura della tua persona. Quindi in collaborazione con un'equipe medica hai a disposizione sia dei PDF gratuite che delle video lezioni per la cura della tua bellezza e della tua pelle. Naturalmente poi qui hai il link diretto alla community Facebook con la quale tu potrai interagire in ogni istante. Questo è il programma completo, ti aspetto all'interno. Ciao!